quella bandiera, il tricolore, la bandiera della Lega e l'aquila albanese sotto perché chi è arrivato da lontano con i documenti in regola, paga le tasse e porta rispetto, è un mio fratello e una mia sorella e viva le comunità di immigrati, per bene, rispettosi, integrati ed educati, l'Italia è casa vostra, ne abbiamo le palle piene di spacciatori e stupratori, per questi un biglietto di sola andata per tornare da dove sono arrivati, è questo, una terra colorata, sorridente, profumata e vi dico con l'ultima voce che mi è rimasta, grazie, grazie per essere qua questo sabato pomeriggio.